Ciola è il personaggio principale del libro, in realtà all'inizio si chiamava l'aria che tirava il primo titolo, ma poi alla fine l'ho cambiato. Chi è Ciola? Ciola è un personaggio che nel 1923 si trova di fronte alla sede dei giovani esploratori cattolici di San Costanzo, c'è una visita di tutti i gerarchi della provincia fascisti che sono convenuti a San Costanzo per inaugurare la sede del fascio, però a un certo punto entrano in questa sede e la mettono a soquadro, distruggono tutto quello che c'era di distruggere. Questo signore che era un bracciante, una persona analfabeta, ha qualcosa da ridire, alla sera lo vanno a trovare con un fiasco di olio di ricino e glielo fanno bere tutto. Questa cosa gli provoca con nati di stomaco naturalmente, due litri di olio di ricino, non è una cosa da poco, finché gli occhi gli vengono fuori un po' dalle orbite. Lui si chiama gli occhi di Ciola, gli occhi di Ciola, e gli occhi di Ciola diventano il due di denari, quando si giocava a briscola il due di denari e sono gli occhi di Ciola a San Costanzo. Ciola è un personaggio, non era un antifascista, ma era uno che in quel momento si trova in una situazione che non approvava. Il libro nasce intorno a tutta una serie di ricordi, di memorie collettive che si sono sedimentate tra l'8 e il 900 in paese e riguardano diversi episodi, tesori nascosti, partenze di emigrati che non ritornano mai più in paese, riguardano un prete castrato che diventa un compositore, una voce bianca molto famosa in Portogallo, riguardano un omicidio politico nel 1921, tutta una serie di storie che i vecchi mi hanno raccontato, un centinaio di testimonianze raccolto e poi è passato del tempo, è venuto il Covid e io ho pensato di metterlo bene sulla carta e poi è stato pubblicato. È una serie di memorie collettive che danno l'identità, il senso di identità di quello che era un paese, era perché ormai i paesi non sono più la stessa cosa. Il viaggio nelle storie di paese è un viaggio che può attraversare chi di San Costanzo sfoglia queste pagine, è un viaggio suo personale in una ricerca notevole? Sì, ma è un viaggio che non interessa soltanto i sancostanzesi, sono stato fino all'ultimo indeciso se mettere il nome del paese o non metterlo. Praticamente San Costanzo rappresenta i paesi, storie di questo genere fanno parte di quel bagaglio culturale che ogni paese porta con sé, quindi non è tanto importante il posto, avrebbe potuto riguardare Novilara, Tavuglia, Montelabate, qualunque altro paese di quell'Italia rurale che poi finisce di essere rurale negli anni 50-60 con il boom economico e acquista tutta un'altra dimensione e la perdita anche di tutta una serie di valori che vengono sostituiti naturalmente da altri valori, da altri modi di dividere.